Se domani un pensiero ti giocherà ieri, ti chiamerà Per la più assidua frequenza nei social network 45 minuti in media è il tempo che i genitori ogni giorno trascorrono assieme ai loro figli E spesso risulta che parte di questo tempo è impiegato nel guardare la tv Mentre sia a tavola oppure al computer Bill Gates dice che il computer più nuovo al mondo non può che peggiorare Grazie alla sua velocità il più annoso problema delle relazioni tra esseri umani Questo della comunicazione, chi deve comunicare alla fine si troverà sempre a confrontarsi con il solito problema Cosa deve dire e come dirlo Cari genitori non potete dedicarci più tempo? Ciao da Alex